Cari pellegrini, dedichiamo l'editoriale di quest'oggi ancora una volta al rosario perché ci troviamo nel mese di ottobre e voglio partire un po' dalla forma dell'oggetto del rosario che è una catena e questa costituisce una delle tante bellezze del rosario che simboleggia appunto il desiderio di legarsi. In questo caso si tratta di un legarsi ad una madre e anche questa è un'altra innesima bellezza della verità cattolica, verità cattolica che offre non solo un Dio Padre, concezione unica nel panorama religioso, ma anche una madre a cui poter confidare e rimettere ogni affanno ed ogni angoscia. Non so se ci avete mai fatto caso ma quando si è un po' in difficoltà oppure quando si è testimoni di cose non piacevoli viene a molti spontaneo affermare mamma mia non succede mai di dire papà mio, è un caso? Niente affatto. È piuttosto dovuto a come si è vissuta la propria infanzia. Per ordine naturale quando si è piccoli chi ci si trova vicino nei momenti più particolari è proprio la mamma. Ovviamente questo non vuol dire che il padre non ami i propri figli o non sia preoccupato di loro, vuol dire piuttosto che la psicologia dell'uomo è diversa, è più concettuale per cui una volta che un padre sa che il proprio figlio sta bene gli basta questo per rassicurarsi. Per la donna invece è diverso, la donna ricerca un contatto continuo, carnale con i propri figli, d'altronde li genera nel suo grembo, la donna carezza continuamente il suo neonato, non si stanca di curlarlo, di poggiarlo al proprio seno, è un amore sensibile, un amore di scambio di sguardi e di contatti. Il rosario in un certo qual modo esprime questo desiderio di tederezza che coscientemente o inconscientemente, consciamente, chiedo scusa o inconsciamente, è presente in tutti, nessuno escluso. Ecco perché il rosario è una preghiera per tutti, semplici e colti, perché tutti, tanto i semplici quanto i colti, hanno bisogno della tenerezza e della protezione di una madre, soprattutto quando la vita si manifesta con le sue, a volte impietose, difficoltà. Bene cari pellegrini, prima di tutto vi invito a pregare costantemente il rosario e poi vi saluto caramente ricordandovi sempre che Dio è verità, bontà e bellezza.